Il centro storico di Citeri Castello si è colorato di fucsia per una serata tema che ha riscosso grande successo e richiamato tanta gente. Una terza edizione che ha visto luci, spettacoli, musica, teatro, concerti, cinema, proiezione, animazione e shopping accontentando tutte le età. L'evento inserito nel cartellone di estate in città organizzato dal Consorzio Procentro insieme al Comune ha colpito ancora una volta nel segno. I negozi aperti fino a tarda sera, con vetrine illuminate e commercianti rigorosamente in tinta, hanno accolto famiglie, giovani, turisti e tifernati. È stato possibile fare shopping sotto le stelle nei negozi del centro storico aperti per l'occasione nella prima giornata dei saldi estivi, ma anche divertirsi e godersi la compagnia degli amici tra esibizioni, DJ set, animazioni per bambini con artisti di strada e gonfiabili. Mercatini, rappresentazioni e spettacoli di tutti e tipi per tutti i gusti.